buon pomeriggio dunque siamo all 11 di giugno sono le 14 perfettamente in orario anche se quest'oggi mi collego qui in diretta con un pochino di anticipo rispetto al solito saluto tutti quelli che sono con me oggi in diretta e naturalmente vi chiedo di condividere questo video premendo il pulsantino che trovate sulla vostra pagina facebook in modo tale da allargare come dico sempre un po il cerchio delle persone che seguono queste dirette ovviamente la discussione la conversazione la nostra conversazione di oggi sarà sostanzialmente incentrata intorno a quello che sta succedendo nei nostri mari al largo dei nostri mari con le 629 persone dell'aquarius che sono ferme su questa barca in attesa di capire quale sarà il loro destino è un momento secondo me molto brutto per il nostro paese perché in realtà c'è una battaglia politica importante che si sta facendo sulla pelle di 629 persone ci sono sette donne incinte ci sono una serie di ragazzini un certo numero di ragazzini di minori non accompagnati tutte tutte persone ci riferiscono appunto da medici senza frontiere che è la ong che diciamo gestisce l'aquarius che ci sono persone appunto che sono scampate sapete dal trattamento non propriamente amichevole che viene fatto viene riservato a queste persone in libia persone che hanno i piedi bruciati da questo mix micidiale di acqua salata e di carburante che c'è nel fondo dei gommoni insomma un bruttissimo momento io direi alla fine per il per la nostra umanità per il nostro per il nostro essere persone però cerchiamo di ricostruire il più possibile che cosa stia succedendo eravamo ieri in una sonnacchiosa domenica elettorale dirò sonnacchiosa ma fino a un certo punto perché già ieri c'era stata questa questo colpo di scena per cui il ministro degli interni in carica durante le elezioni e a urne aperte voi sapete benissimo che il ministro degli interni è il garante del procedimento elettorale bene salvini aveva fatto un tweet un po su facebook auspicando che gli elettori votassero per la lega questo secondo me da già proprio la sensazione l'impressione di che cosa di quale assenza di senso dello stato anche di comprensione della delicatezza del ruolo che queste persone si trovano a ricoprire ci sia sei il ministro degli interni non sei più un capo partito se sei ancora un capo partito sei però il ministro di tutti gli italiani la tua responsabilità di gestire il processo elettorale che è quello più delicato di tutti in modo imparziale di questo ti devi ricordare ma salvini non riesce a capire neanche queste cose elementari ebbene che cosa accade che comunque durante le elezioni quindi a urne aperte questa nave di medici senza frontiere si trova appunto queste 629 persone a bordo e non riesce ad attraccare a malta perché sostanzialmente malta non dà il permesso alla nave di attraccare quindi al momento in cui la nave si trova vicino a malta salvini scrive al governo maltese dicendo guardate ve li dovete prendere voi perché noi altrimenti chiuderemo i porti e già qui io mi chiedo a cosa serve il ministro degli esteri col ministro degli interni che scrive direttamente un governo straniero cosa molto buffa ora i maltesi in tutta questa situazione hanno sempre avuto un atteggiamento molto rigido che naturalmente in un certo senso va condannato io direi va condannata l'intera europa che ci ha lasciati spesso soli a fronteggiare il fenomeno migratorio però capisco anche che malta è un'isola di 350 chilometri quadrati di superficie per intenderci è la metà della provincia di lodi quindi considerate cosa è l'italia considerate cos'è la metà della provincia di lodi ed è un posto dove abitano meno di 500 mila persone per cui naturalmente io comprendo la difficoltà nella quale si trova il governo maltese non ne faccio una responsabilità a malta ne faccio una responsabilità più che altro al resto d'europa e soprattutto quei paesi come l'ungheria come la polonia come la repubblica cieca come la slovacchia cioè i paesi di amici di salvini per intenderci quelli che hanno sempre diciamo evitato di modificare il regolamento di dublino che come sapete è quel trattato internazionale quell'accordo europeo che ci obbliga a come paese di prima accoglienza a gestire da soli il fenomeno migratorio e anche all'ultimo parte il fatto che al consiglio dei ministri degli interni salvini non c'era brussell e quindi già questo ci mette in una situazione diciamo particolare perché quando si discutono cose così importanti è auspicabile che il ministro degli interni ci sia però certo c'è una proposta di modifica del regolamento di dublino che l'ungheria e gli altri paesi di visegrad cosiddetti di visegrad non vogliono e noi stiamo appoggiando loro in modo veramente curioso comunque malta non vuole questi dice che loro non c'entrano niente perché i primi soccorsi a largo della libia sono stati gestiti anche con la partecipazione della marina militare italiana e comunque è l'italia che sta coordinando le operazioni di soccorso quindi dicono voi in sostanza avete aspettato che la nave aquarius si avvicinasse più possibile a noi a malta ma in realtà è stata anche più vicina lampedusa però voi avete aspettato quel momento per chiedere a noi quindi noi non siamo in grado e a questo punto salvini dice beh io allora chiudo i porti in realtà non è tecnicamente salvini a dire che chiude i porti ma la persona competente è il ministro danilo toninelli danilo toninelli di 5 stelle che tra l'altro fa un tweet dicendo noi vogliamo salvare le vite però l'italia non può andarci sempre di mezzo quindi a parte il fatto che se volete salvare le vite agite subito perché l'acquarius è lì e le persone sono lì che aspettano però il movimento 5 stelle si assume una corresponsabilità di questa decisione io lo voglio sottolineare è una corresponsabilità piena perché è vero che salvini fa dell'immigrazione il suo cavallo di battaglia e che di bloccare questi arrivi già c'era stato un arrivo qualche giorno fa di un'altra di un'altra nave quindi salvini non si vuole trovare nella situazione da neoministro degli interni a gestire un migliaio di sbarchi in pochi giorni di migliaio di sbarchi di persone in pochi giorni però la verità è che il movimento 5 stelle ha collaborato al 100% a questa decisione io devo dire molto chiaramente che non sono per niente sorpreso di questo cioè chi pensa che il movimento 5 stelle sia qualcuno lo pensa ancora una costola della sinistra si sbaglia grandemente il movimento 5 stelle ha su questi temi ha avuto sempre delle posizioni molto restrittive io voglio semplicemente ricordarvi che cosa ha detto il movimento 5 stelle quando abbiamo provato ad approvare la legge sullo iussoli approvata alla camera con il voto contrario il movimento 5 stelle e mai approvata al senato perché il movimento 5 stelle non ci ha dato i numeri per farlo loro dicevano un problema europeo quindi l'europa che se ne deve occupare non ce ne non se ne può occupare l'italia fatto sta che noi la quella legge non siamo riusciti ad approvarla quindi io non sono stupito io penso che la lega e il movimento 5 stelle seppure con sfumature diverse in realtà siano completamente concordi e voglio sottolineare anche il silenzio assoluto del presidente del consiglio conte che su questa cosa non ha detto niente ora voglio ricordarvi che conte da si dà delle grandi aree di cattolico c'è questo giornale questo settimanale che settimanale che si chiama di più che è edito dalla cairo che ha in copertina la scritta padre pio è al governo perché il presidente del consiglio conte ha padre pio nel cuore e oggi io mi come dire ho twittato chiedendo che cosa ne pensi cosa ne pensi padre pio visto che l'hanno messo al governo di 629 disperati donne bambini donne incinte che sono lì con i viveri e l'acqua che stanno finendo e non si capisce cosa cosa se ne cosa se ne farà alla fine di questo braccio di ferro tra l'altro poi salvini naturalmente ne ha approfittato per mettere in rete una sua foto non più con una felpa ma in giacca e cravatta con un'aria come dire piuttosto incazzata e una scritta chiudiamo i porti un hashtag sempre nel giorno della delle elezioni sempre lui ministro degli interni è sempre ad urne aperte che fa veramente un po spavento quella fotografia è una fotografia a parte il fatto che è una fotografia velleitaria perché è evidente che questa posizione ci pone in un isolamento incredibile crea un incidente diplomatico con malta solo dopo pochi giorni l'incidente diplomatico con la tunisia vi ricordate quando salvini ha detto che i tunisini esportano galeotti quindi sta isolando l'italia rispetto a paesi la cui collaborazione la cui cooperazione è fondamentale per poter gestire il fenomeno migratorio io voglio ricordare che fino a pochi giorni fa fino a poche settimane fa il ministro degli interni era marco minniti che ha fatto un lavoro estremamente complicato estremamente difficile essendo anche attaccato molto da sinistra però proprio sulla base diciamo con un lavoro fatto sulla base della collaborazione costruito sulla base della collaborazione con gli altri paesi l'anno scorso gli sbarchi si sono ridotti del 78 per cento quindi diciamo la tensione sulle coste italiane è molto diminuita e la tunisia è uno di quei paesi con i quali si è fatto molto lavoro insieme e gli sbarchi dalla libia sono diminuiti dell'85 per cento ora questo non vuol dire che il fenomeno migratorio e tutte le complessità che vi sono legate si risolvano soltanto così però certo c'è stata una gestione intelligente una gestione ovviamente che tiene conto del fatto che anche l'italia ha un punto di rottura un punto di resistenza oltre il quale è complicato andare e che l'unione europea deve sì farsi carico assolutamente deve aiutarci a condividere diciamo il peso organizzativo e umano e economico di questo grande fenomeno migratorio ma lo si può fare con intelligenza oggi c'è un'intervista di minniti su repubblica che ricorda che nel giugno dell'anno scorso a un certo punto arrivarono 26 navi in 36 ore sbarcarono 13.000 e passa migranti ma neanche in quel caso minniti e del rio disposero che era il predecessore di torinelli disposero la chiusura dei porti quindi noi secondo me stiamo facendo una figura pessima sul piano appunto dell'assistenza umanitaria ma anche politicamente perché ci stiamo isolando a livello europeo paradossalmente siamo più vicini a quei paesi che non ci hanno mai aiutato che non ci stanno aiutando e quindi c'è un isolamento una vicinanza a paesi che sono oggettivamente avversari è una crisi umanitaria che ci sta scoppiando tra le mani questo ripeto nel silenzio del presidente del consiglio che non è niente da dire nella complicità anzi nella io direi che una sorta di associazione delinquere che c'è tra il movimento 5 stelle e la lega nord un esempio il sindaco di livorno nogarin oggi ha messo su facebook un post dicendo il porto di livorno è aperto noi dobbiamo restare umani ma questo post è stato cancellato dopo pochi minuti questo anche conferma che il movimento 5 stelle è un partito in cui non esiste nessuna democrazia interna nessuna libertà di pensiero di parola perché nogarin ha scritto delle parole molto accorate ma evidentemente dalla casaleggio e associati gli è arrivata una telefonata che ha detto cancella il post e nonostante in questo post si parlasse di valori di cose che vanno al di là secondo me dell'appartenenza a un partito il sindaco nogarin ha obbedito ha calato la testa e ha tolto il post da facebook però lo sapete come dicono sempre quelli di anche di anche di 5 stelle su dalla rete non si cancella mai nulla per davvero io chiuderei qui soltanto una piccola annotazione perché abbiamo cominciato parlando di elezioni amministrative ieri appunto si è votato in molti comuni alcuni comuni molto importanti e tutti si aspettavano una disfatta del partito democratico una disfatta del centro sinistra ebbene questa disfatta non c'è stata oggettivamente è andato molto bene il centrodestra con una lega a fare da traino ma con forza italia assolutamente svuotata e il partito democratico ha tenuto le posizioni secondo me molto bene anche con alcune vittorie importanti io voglio ricordare in particolare la vittoria di del bono a brescia brescia è la seconda città della lombardia e quindi un centro estremamente importante vinta il primo turno così come si è vinto il primo turno trapani il centro sinistra è avanti ad ancona che era l'unico capoluogo di regione nel quale si votava e la candidata del punto del centro sinistra è a 48 per cento sfiorato la vittoria al primo turno ma ci sono molte altre città dove il partito democratico e il centro sinistra sono andate bene questo anche per smentire i profeti di sventura e coloro che dicono che l'opposizione non si vede che il centro sinistra è morto che il pd non c'è più non è affatto vero questi questo voto lo ha dimostrato e io credo che andando avanti man mano che il centro diciamo il governo giallo verde continuerà a fare le cose che sta facendo guardate sono in carica soltanto da da pochi giorni e io ho sempre grande materiale per le mie dirette voglio dire non non ci annoiamo mettiamola così io penso che man mano che passeranno i giorni le settimane e i mesi si capirà sempre di più perché un centro sinistra forte e importante per il nostro paese e quanto importanti sono state le cose che abbiamo fatto quanto è stata professionale anche l'attività di governo quante scelte difficili si sono fatte e quante scelte complesse si sono gestite e lo si è fatto nel rispetto dei nostri alleati non creando crisi umanitarie come quelle che abbiamo visto collaborando con i paesi amici e dando prova di una leadership responsabile e matura che è quello che oggi manca a questo paese io mi fermo qui ahimè non sono ancora in grado di confermarvi quando ci sarà la diretta di domani ma dovrebbe essere le 14 e 30 ma comunque lo scriverò su facebook appena possibile sto aspettando di capire quando tornerò a roma perché i lavori parlamentari sapete sono ancora fermi le commissioni non sono ancora state costituite perché mentre lega 5 stelle si spartiscono le poltrone dei sottosegretari e dei viceministri oggi è l'11 di giugno hanno giurato il primo giugno sono passati 10 giorni e le nomine ancora non si vedono ci impediscono anche di far cominciare il lavoro delle commissioni per cui siamo un po tutti appesi per capire quando dobbiamo essere nel nostro collegio il mio a milano o quando dobbiamo tornare a roma per votare in aula e quindi ho in commissione penso dalla fine di giugno partiranno anche le commissioni quindi oggi non sono ancora in grado di darvi l'appuntamento per domani ma tentativamente dovrebbe essere le 14 e 30 vi confermerò seguiremo ancora la vicenda della nave acquarius sperando che appunto si sblocchi io nel ricordarvi sempre di condividere il video pigiando la freccetta che vedete sotto la mia faccia video appuntamento domani e vi ringrazio come al solito per l'attenzione ciao